Andrea Nicolai dopo gara 1, coach alla primo tempo di grande attacco, grande precisione, tanti passaggi, pochi palleggi, poi nel secondo tempo ti chiedo che cosa è successo dopo un episodio molto chiaro, cioè il terzo e quarto fallo di Rizzitella, l'antisportivo, lì ci si è messo anche un po' l'arbitraggio, devo dire la verità che è un po' cambiato, l'avete un po' capito poco da una parte e dall'altra? No, diciamo che l'arbitraggio l'hanno visto tutti, è stato un arbitraggio che è un po' un divago, ma non voglio, no, cosa è successo? Allora noi primo tempo molto bene l'approccio dei ragazzi, soprattutto quelli più giovani, in un ambiente così, in una finale non era facile, invece sono stati bravi, Centro secondo me un po' arrugginita dei dati giorni di riposo, noi più con ritmo e abbiamo fatto bene, però già si è visto il loro dominio a rimbalzi, che gli ha permesso di rimanere in partita, perché per quello che si è visto in campo si poteva essere avanti 10-15. Secondo tempo, loro sicuramente, avete visto quanto hanno messo a rientrare in campo, Benedetto era già in campo, la squadra ancora dentro, lì i veterani hanno preso in mano la situazione, secondo me hanno detto, ragazzi si sta giocando troppo mosci, si sono troppo morbidi, dobbiamo mettere le mani addosso, dobbiamo, fra virgolette, picchiare, è quello che si è visto. Loro hanno cominciato a giocare da veterani, da squadra vera, da squadra cattiva, cattiva nel senso giusto e noi con mani addosso, con anticipo, con un po' di pressione fisica abbiamo fatto fatica. Nel frattempo è continuato il dominio a rimbalzi e più che il terzo e quarto fallo di Rizzitelli, direi il terzo, quarto e quinto fallo del nostro capitano Simone Berti, abbiamo giocato senza Simone Berti stasera, credo che quindi il fatto che abbiamo avuto un bel impatto, il fatto che hai rimbalzi, un rimbalzo offensivo è quasi un record, penso che faremo meglio. Il fatto che Simone spero che ci possa dare qualcosa in più, credo che siamo completamente nella serie, martedì è un'altra partita, dovremmo parlare dagli errori. Vi siete assolutamente snaturati, avevi detto in pre-partita giocheremo nel nostro modo, quindi cambi sistematici, quindi cercando di giocare il vostro basket. Questo forse vi ha un po' penalizzato dentro l'area con tanti mismatch e tante situazioni dove loro siete stati costretti a spendere anche dei falli forse? No, non direi perché loro lunghi hanno preso rimbalzi sulla testa dei nostri lunghi, le loro ali sulla testa delle nostre ali, questo non direi, non è un discorso dei mismatch, qualche volta può suggerire fisiologico, ma il problema è proprio di fondo, di base, di una differenza di stazza e di atletismo fra noi e loro. Però ripeto, hanno avuto 20 possessi più di noi, noi si è tirato meglio di loro nel complesso in percentuale, però 20 possessi più di noi diventa difficile. Quindi ribadisco, lì bisogna fare qualcosa in più, è una cosa di costituzione della squadra, si sa che quando si fa una squadra per voler vincere in tutti i modi si fa una squadra grossa e quindi loro l'hanno fatto. Però noi penso che abbiamo qualche carta in regola per metterli in difficoltà, per metterli qualche granello di Saba nel loro meccanismo. La serie è lunga, ho visto che cose positive. Si riparte dal grande atteggiamento del primo tempo dove si è vista la solita fiorentina tua, che gioca, che non ha paura di niente, che prende tiri in transizione, si riparte da quel punto lì o che gara 2 sarà diversa? Non bisogna giocare così perché se si gioca a metà campo con loro c'è troppo differenza di tonnellaggio, ci stritolano, ci stritolano, ci mettono le mani addosso, ci pigliano rimbalzi. Dobbiamo giocare a tutto campo, prendere i tiri in ritmo, in corsa, a metà campo diventa difficile, soprattutto senza Berti che è l'unico competitivo dal punto di vista della stazza fisica rispetto ai pari ruolo di Cento. Senza di lui proprio a metà campo facciamo fatica. Quindi speriamo di recuperare Simone, speriamo di capire quanto sia importante la lotta a rimbalzi e la serie è ancora lunga.